Ciao Grazie Ecco che c'è un'altra settimana Per fortuna Adesso con la macchina L'arrivo giù alla metro La parcheggio lì Prendo la metro che poi mi porta Fino al lavoro E non pensavo di cibo E incominciano l'altra giornata Grazie Il mio primo lavoro Che adesso sto facendo È quello di un centro Il centro di analisi cliniche Mi trovo allo sportello Dell'accettazione Mi ritengo molto fortunato Nell'aver trovato questo lavoro Perché a Napoli di lavoro Si sa, ce n'è ben poco Soprattutto legale Messo in regola Come si dice a Napoli Messo a posto Simone è stato assunto Da questa società di medicina nucleare Sembrava uno scherzo all'inizio Anche perché qua a Napoli È un po' difficile queste cose E poi ci hanno detto Diciamo, hanno detto a lui direttamente Che era stato selezionato Tramite la scuola E a loro era piaciuto Nel colloquio E quindi è arrivata Questa manna dal cielo Mamma, mi dà il forbice Come? Rivedi La lunghezza è 2,58 2,58 Sous-titrage Société Radio-Canada No, per il primo stipendio da parte della giornata intera. Oh, mi auguri. Com'è? È un buono. È molto... Come la pizza. Penso che è più buono della pizza. Un buono stipendio alla metà. È alto. Buono. Che spiega le pizze? Un po' che centinaia di euro in più. Aspetta prima, sì. Vabbè, già si comincia a peggiorare ancora di più. Benissimo. È oggi, quindi. Sì, oggi mi hanno fatto la credito.